La felicità non vi è data dalle cose e per essere felici bisogna anche diffidare con questi pensieri ci siamo lasciati ieri. Che cosa vuol dire che per essere felici dobbiamo diffidare? Dobbiamo diffidare da chi ci presenta non la felicità vera, da chi ci presenta una illusione, da chi ci illude che possedere, che avere, che essere felici vuol dire essere qualcuno, che essere felici vuol dire, come ci siamo detti ieri, riprendendo le parole che Papa Francesco ha detto nel 2016 durante il giubileo dei ragazzi e delle ragazze, la felicità non è nell'ultima app e lo spiega e dice perché? Perché la ultima app non vi renderà mai liberi e mai felici. Ecco che la felicità va sempre con la libertà ed ecco perché bisogna diffidare, perché c'è gente che mi vuole illudere, perché c'è un sistema, un modo di pensare la vita, c'è una filosofia che non è più ahimè a favore dell'uomo ma è contro l'uomo perché? Io ho una mia spiegazione perché si è allontanata da Dio. Quando allontaniamo Dio dall'uomo, quando lo emarginiamo anche l'uomo perde se stesso. Quindi dicevo, dobbiamo diffidare per essere liberi, dobbiamo avere il senso critico, quello che nel Vangelo Gesù dice, chiama prudenza e saggezza. Dio dice di essere semplici come le colombe ma prudenti come i serpenti. Ecco il senso critico, non possiamo berci tutto ciò che ci viene propinato. E diffidare vuol dire arrivare a comprendere se questa o quella scelta, se questo o quel prodotto, se questo o quel modello mi rendono libero o no? Perché una persona che non è libera dentro non è felice. Che cosa vuol dire essere liberi dentro? Ricordo di aver conosciuto anni fa un detenuto, ne aveva fatto di tutti i colori, ma proprio di tutti i colori, aveva i reati più gravi e anche più abominevoli. Bene, quell'uomo io incontrandolo più volte e vedendo il suo percorso a un certo punto l'ho visto libero, condannato all'ergastolo ma libero nel cuore, perché aveva fatto un processo di purificazione, di comprensione, di riavvicinamento con se stesso, con Dio e con gli altri. Era libero dentro ed è morto libero, pur avendo vissuto gli ultimi quarant'anni della sua vita in una cella, in un carcere. La libertà interiore è la libertà di quelli che vogliono essere felici e che sanno discernere, che sanno utilizzare il loro spirito critico e la loro intelligenza e, come dice Gesù, sanno essere semplici come le colombe e prudenti come i serpenti. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!